Siamo con il curatore della mostra, che cosa ci può raccontare su questa esposizione? Lui dice che una delle cose che più dà l'impressione in una esposizione come questa è il colpo che ti può dare, l'impressione che ti può dare di un poster, e quindi lui lo chiama un pugno nell'occhio e oggi vedendo tutti questi poster, circa 200, ce ne sono tanti in cui le hanno dato un'impressione molto forte, lo hanno cautivato molto e lo hanno impressionato moltissimo e quindi è molto contento di questo.